Ragioni del mondo o ragioni di Dio? La domanda sembra senza grande importanza, come tutte le cose che sembrano senza la possibilità di una risposta ragionevole, razionale, perché la ragione umana non ha nemmeno gli argomenti per definire quali siano le ragioni di Dio, definirle proprio in modo razionale, arriva a definirle come le ragioni del bisogno di Dio. Quello che disse Socrate, Dio è quel rifugio nei confronti delle difficoltà dell'uomo che vedendo la propria vita così messa allo sbaraglio, auspica, vuole credere nell'esistenza di un Dio di giustizia che alla fine metta a posto tutte le paresi ingiustizie che esistono e sono patite da tutti i soggetti viventi del mondo. Dunque Dio è un bisogno, ma che al bisogno corrisponda poi la realtà di chi ti soccorre e ci passa proprio una esperienza che noi non siamo in grado di fare e di conseguenza non è sufficiente con la ragione di imporla come esistente, come vera. Vedete, cari amici, quando noi andiamo a cercare le cause che hanno prodotto dei fenomeni, le cause noi non le vediamo più perché si sono tradotte negli effetti di quelle cause e noi abbiamo davanti solo gli effetti. Ma proprio perché abbiamo avanti gli effetti possiamo avere la certezza che essi abbiano avuto una causa perché noi vediamo il nostro esistere in in un mondo dominato dalla casualità, ossia dal fatto che esistono cause in grado di determinare effetti. Ecco, la vita presenta un solo verso. Ci sono le cause che proprio perché hanno potenza di determinare reazioni le impongono e di conseguenza dalla presenza di reazioni noi siamo in grado di risalire all'esistenza vera di azioni, anche se noi non le vediamo più. Questo è vero. E allora se noi siamo in questo mondo in cui noi vediamo sempre solo gli effetti e mai le cause dicendo che le cause sono contrapposte agli effetti e esiste questo rapporto di contrapposizione tra causa e effetto, tra azione e reazione, in cui l'azione è la causa, la reazione è l'effetto e noi vediamo sempre la reazione. Sono queste due azioni di segno inverso tra di loro perché una dinamica in atto porta alla sua reazione data proprio nella dinamica contrapposta. Se noi immaginiamo di rappresentare la causa come una azione nel tempo e la evidenziamo come un vettore che sia una freccetta che indichi il verso in azione, la modalità del modulo, ossia della quantità che esiste in azione e della lunghezza della azione, noi possiamo con tutti i crismi di verità rappresentare l'azione uguale e contraria nel vettore esattamente contrapposto. Tanto che se noi si abbia uno zero, da una parte ci sia il vettore più uno e dall'altra il vettore meno uno. Ecco, immaginare in un modo reale costruito con l'intelligenza questo complesso in cui noi siamo lo porta proprio a esistere come due vettori che esistono tutti e due e sono contrapposti l'uno all'altro. Possono essere contrapposti nei due modi di una fuga da un punto centrale oppure possono essere contrapposti a loro volta in due vettori che puntino su un punto centrale, un andamento centripeto e un andamento centrifugo. Allora noi andiamo a capire che quando esistono tutti e due i modelli noi abbiamo un modello centripeto che esiste insieme al modello centrifugo. Il modello centrifugo è quello reale di una realtà che vediamo presente in atto in cui emanati da un punto centrale che la scienza sta considerando come il Big Bang, poi c'è tutto il moto centripeto della materia e della luce. Ma queste due forme di materia e luce fanno parte realmente di un complesso. La luce fa parte del complesso elettromagnetico in cui mentre possiamo assegnare alla luce un vettore diretto in un modo il magnetismo è il vettore contrapposto diretto nell'altro modo. Allora capite benissimo che il modello centripeto che è quello dominato dalla forza magnetica e dalla forza antimateriale è in atto e noi ritroviamo questa azione in quella della gravitazione universale. L'esistenza del modello opposto non dell'accentramento magnetico e materiale ma di quello in forma di espansione che allora si presenta nella forma contrapposta al magnetismo che è quella dell'elettricità, nella forma contrapposta a quella della materia, a quella dell'antimateria che è quella della materia, noi vediamo bene che se nel nostro mondo reale noi vediamo l'espansione della forma luce e della forma materia questa dinamica esiste sulla giusta contrapposizione alla dinamica centripeta di magnetismo e di antimateria. Non è una ribellione quella che noi vediamo in atto alla forza di gravitazione universale, tanto che a un certo punto c'è un botto perché sono capovolte tutte le forze della gravitazione universale. No, è la giusta presenza in azione e in azione uguale e contraria dei due fenomeni, uno centripeto nella forma del magnetismo e dell'antimateria, l'altro centrifugo nelle forme opposte della luce e della materia. Quindi noi esistiamo in un complesso a due, uno dei quali è la realtà che appare dinamica, che appare diveniristica, che appare evolutiva nelle forme di una realtà affidata alla percezione della luce e della materia che vediamo venire, divenire dal Big Bang e l'altra che noi non vediamo ma che è la causa di questa che noi stiamo vedendo così. E allora capiamo che la logica divina è la logica causale che porta tutto a quel punto centrale e la logica materiale è tutta quella invece che parte da quel punto centrale. E noi allora arriviamo a capire che la logica del mondo e la logica dell'altro mondo non sono due cose che sono disancorate con il nostro sistema binario di riferimento, ma sono proprio coerenti con questo sistema in cui la causa, quella che non appare, quella che trascende la realtà e come tutte le cose che trascendono la realtà sono definibili che sono la logica divina. E sulla forza di questa onnipotenza divina noi stiamo vedendo la potenza della realtà dell'universo e del nostro mondo reale però solo come un effetto indotto in ciò che è uguale e contrario dall'azione divina. E poi che l'azione divina ha ciò che è esattamente uguale e contrario a Dio, il diavolo, noi vediamo proprio coerente questo mondo preda del diavolo. Il diavolo è l'entità assoluta malefica, ma questo diavolo che noi lo vediamo realmente in atto nella vita, che nasce per andare a morire, che nasce per vedere sfiorire tutto il potenziale di un bambino in un uomo che a mano a mano che avanza si determina sempre più e impoverisce sempre più e pone tutta la sua vita morale ideale al consumismo più sfrenato fino arrivare al consumismo della stessa vita. Questa è la logica del mondo, una logica dominata dal maligno. Ma attenzione, questo maligno non c'è. Questo maligno è semplicemente la nostra visione in modo uguale e contrario del mondo di Dio che salva ogni cosa perché toglie di mezzo ogni atto reale, buono o cattivo che sembri e lo riconduce a quel principio in cui tutto è ancora possibile ed esiste tutto interamente in potenza. Dunque, di fronte a questo interrogativo, noi dobbiamo valorizzare il mondo reale o il mondo di Dio? Non c'è alcun dubbio. Dobbiamo valorizzare e vivere dando importanza proprio a ciò che Dio sta facendo, ci sta salvando. E allora la vita umana si consoli, si veda in questo mondo demoniaco perché è la rappresentazione demoniaca della assoluta salvezza indotta dal mondo di Dio, da quel mondo che trascende questa realtà fino a ribaltarla totalmente nella sua dinamica. Non c'è più un bambino che diventa vecchio e muore, ma c'è un morto che ritorna bambino. E c'è una vita che nasce dalla polvere del sepolcro per andare a indiarsi in Dio. E quindi questo Dio, che secondo Socrate era soltanto quel marchigegno che l'uomo si era inventato per risolvere i suoi problemi, è tutt'altro che questo. È un Dio che risolve tutti i suoi problemi, ma lascio vedere un mondo demoniaco in cui apparentemente appaiono tutti i problemi che poi Dio sta risolvendo.